E siamo alla puntata numero 2 della matematica d'estate, la fisica che ci piace. Sentite il suono del mare. Sentite gli schiamazzi dei bambini. Sentite... si sentono pure i... come si chiama? Le cicale. Sanno anche le cicale. Siete riusciti a sentire questi tre suoni? Barca? La barca? Sta andando? Va bene, basta. Allora, intanto benvenuti sul canale YouTube La Fisica che Ci Piace, dove imparare fisica e matematica è un gioco da ragazzi. Siamo in estate? Io impazzisco ogni volta che arriva l'estate per due motivi. Perché l'adoro e perché a volte voglio pubblicare delle cose un po' diverse. Insomma, ho la possibilità di pubblicare delle cose diverse sul mio canale, piuttosto che... Capelli? Stanno... Piuttosto che, diciamo, le live che sono fantastiche, per carità, però sono dal sapore tipicamente invernale. Insomma, ragazzi, fare live d'inverno e d'estate anche no. Cioè, non so, voglio dire. Nulla, questa è la puntata numero due. Non so se avete visto la puntata numero uno. La trovate naturalmente sul mio canale YouTube. La puntata numero due, di che? Di cosa? Dedicata a trucchi matematici che ho pubblicato l'estate scorsa e che hanno fatto impazzire un sacco di gente perché divertenti, perché particolari, perché sono trucchi che la tua mente può fare senza la calcolatrice. E questa è una gran figata. È vero che stiamo perdendo, diciamo, l'abitudine di utilizzare le calcolatrici perché ormai in mano abbiamo solo il telefono. Ma le calcolatrici, cosa molto importante, sono nate perché è nata la mente prima. Come l'uovo e la gallina. Chi è nato prima? L'uovo e la gallina? Scrivetelo nei commenti. Ma in realtà, fra calcolatrice e mente, siamo sicuri che la mente è nata prima dalla calcolatrice. La mente è un grande calcolatore. E proprio perché la mente è un grande calcolatore, i trucchi matematici che sto per proporvi vi stupiranno, vi piaceranno. Molti di voi, probabilmente qualcuno di voi li avrà già visti, tanti altri di voi non li avranno visti, quindi... E quali sono questi trucchi matematici di oggi? Cosa prevede il menu? Allora, il primo io l'ho chiamato parenti di quadrato dei parenti di cento. L'ho chiamato così perché è un po' strano. Vedrete come sviluppare il quadrato di numeri che hanno tre cifre. A mente, sempre a mente naturalmente. Ok? E poi l'ultimo, l'ho chiamato moltiplicazione e metodo degli archetti. In realtà ho dato io questo nome perché disegnerai un archetto, farei una cosa simpatichina. E soprattutto ammirerete il mare pugliese, il paesaggio pugliese, perché l'anno scorso io questi video li ho girati a mare. Esattamente come sto facendo oggi, come ho deciso di fare in questi giorni. Di girare da mare piuttosto che girare da casa, dal mio studio, da dove di solito, sapete, faccio i miei video ormai belli gigioni, conosciuti, insomma così. Che dovete fare voi invece quando finirete questo video? Commentatelo. Qual è il trucco che vi ha colpito di più? Fate la prova voi a prendere dei numeri e a vedere se il trucco funziona veramente o no. Oppure se ho barato, magari ho preso dei numeri che funzionavano apposta in quel trucco. Quindi provate un attimo a verificare. E voi conoscete altri trucchi da condividere, da spiegarci? Scrivetelo nei commenti. Un'altra cosa ragazzi. Siamo in estate. Commentate, fatemi sapere dove siete. Se state facendo le vacanze, se non avete fatto ancora le vacanze, se dovete andare da qualche parte, in mare, in montagna, che tipo di vacanza preferite? Io preferisco il mare. Assolutamente. Io adoro il mare. Cioè per me il mare è tutto. Chiaramente faccio vacanze anche, non a mare, differenti, diverse. Però il mare è fantastico, è una cosa meravigliosa, stupenda. E non solo in Puglia, c'è il bel mare. L'abbiamo in tutta Italia, il bel mare, per carità. Ok, molto bene dalla fisica che ci piace e tutto passo e chiudo. C'è uno che sta in acqua, che mi sta guardando da mezz'ora e dice quel cretino che sta facendo sullo scoglio. Ecco, diciamo, io adoravo molto fare i video dall'esterno perché mi guardano. E tu dici, vabbè, ma te ne devi fregare, vuoi fare il vlogger? Il vlogger? Ah, a proposito, un'altra cosa. Commentate, io vorrei fare il vlogger, no? Oltre che come dare un'aggiustata a questi capelli che se ne vanno per conto loro. Però, che tipo di video potrei fare da vlogger? Perché mi piace l'idea di fare dei video in esterna. Anche se, ripeto, mi imbarazza un po' perché ci sono alcune persone che poi ti guardano e dicono, ma qui... Vabbè, comunque so, so cos'è. Come si dice? Hashtag so soddisfazioni. Ciao, come dico io, ciao capociò. Ovvero, la famiglia dei parenti sotto, 91, 92, 93, 94, eccetera. E la famiglia dei parenti sopra, 101, 102, 103, 104, eccetera. Vediamo il trucco per la famiglia dei parenti sotto. Vogliamo, ad esempio, fare 92 al quadrato. Che numero manca a 92 per raggiungere 100? Manca 8. Allora sottrai 8 a 92, ottenendo 84. Scrivi successivamente il quadrato di 8, che è 64. Voilà! Il quadrato di 92 è... Paran! 8464. Vediamo ora il trucco per i parenti di sopra. Vogliamo fare 106 al quadrato. Somma all'intero numero l'ultima cifra. 106 più 6, 112. Fai il quadrato dell'ultima cifra. Quadrato di 6 è 36. Et voilà! Ecco il risultato. 106 al quadrato, 11.236. Proviamo a moltiplicare 21 per quadrato. 14. Disegnate due archetti di diverso colore. Moltiplicate i numeri di ogni archetto e riportate il risultato. Disegnate ora altri due archetti. Quello interno e quello esterno. Il prodotto di quello interno vi dà 1. Il prodotto di quello esterno vi dà 8. La somma di due numeri dà 9. Dunque 21 per 14, 294. Esercitandovi con altre coppie di numeri, succederà che un numero potrà superare nel prodotto la singola cifra. Dovrete allora applicare un ulteriore trucco. Provate ad intuirlo voi e a scriverlo nei commenti.